Ciccio, l'attore a gore, meglio di così. Vittore, che è la cosa più importante. Era una partita abbastanza difficile. Siamo stati bravi, nonostante siamo partiti in salita. Non caccio di ricorda, secondo me è inesistente, però ci dobbiamo abituare che in queste categorie troviamo arbitri che purtroppo... L'importante è che abbiamo vinto, adesso cancelliamo queste vittorie e pensiamo subito a quella di Trapani, che è un'altra partita difficile. Sto indietro, perché comunque mi manca l'ittimo gara, che è la cosa più importante. Mi sto allenando, ho tanto lavoro sulle gambe, quindi lo devo smaltire, però devo dire che sono abbastanza contento, ho immagini di miglioramento, quindi sono contento. Ecco, ma comunque è sempre piacere brindare questo esordio con un gulla, un'emozione a preparare la tua, visto che appunto sei ritornato qui nel Pini e accettato volentieri questa piazza che hai sempre amato e sei ritornato anche a fare buono. Per segnare al Paltenio comunque, oh, viene intitolato il nostro mitico capitano Lombardi, mi ha fatto piacere, fa il gol qui, quindi spero che questo sia il primo dei tanti che possono essere avuti dalla squadra, perché abbiamo un solo obiettivo, niente, quindi sono contento soprattutto per la vittoria. Senti, Ciccio, tu ancora sei entrato e eravate in tre esterni di ruolo e Marra ha pensato bene di inviegarti addirittura centrale dietro la prima punta, come ti sei trovato? Essendo che manca il ritmo gara sulla fascia, bisogna pedalare e combattere, nonostante il campo sia abbastanza pesante, quindi il mister ha ritenuto opportuno stare dietro la panettere, che comunque credo sia stata la cosa migliore, perché nonostante tutto è anche vero che potevo fare meglio, potevo fare meglio, ero un po' contratto, ma è sempre questione della partita, quindi l'ultima gara l'ho fatta il 30 maggio, era inevitabile, però sono contento per le soldi. Di lato di tutto sembra che oggi il mister Marra abbia seccato qualcosa di grande, a mio parere, è quella di inserire Rega prima di te, perché se Rega fosse entrato dopo di te, forse difficilmente sarebbe stato recuperato mentalmente, perché si sentiva ancora una volta scusa ancora di più, oggi l'ha messo prima di te, soprattutto sapendo che non sei al massimo della condizione, ti ha messo in un ruolo dove hai corso di meno, hai dato di più, per questa sicurezza l'ha fatta da padrone, al di là di tutto ciò, come hai visto la vendita dalla bambina quando non hai gioco? Ripeto, fare la gara qui, in casa, perché comunque era importante per noi fare risultato, e partire in salita non era facile, riprendere la gara, quindi la squadra invece si è comportata bene, eravamo abbastanza nervosi dopo il calcio di rigore, dobbiamo migliorare questo aspetto, perché ci nervosiamo spesso, e questo va contro di noi, quindi dobbiamo migliorare questo aspetto, che credo sia importante per il campionato. In quanto riguarda il Misti ha fatto la scelta giusta per far entrare Rega, perché comunque sta meglio di me fisicamente, quindi ci ha dato un po' così in più sulla fascia. La sostituzione mia è stata utile perché, ripeto, devo stare lì a gestire i palli, a far sedere la squadra, a prendere i falli, quindi credo che il Misti oggi abbia fatto delle scelte giuste.